Bello, ma bello, ma proprio bella questa sconfitta, vero Cristiano? Proprio bella questa sconfitta, ci voleva finalmente! 1-0, Bergio-Portogallo, la decide Asad, non Eden Asad, ma Togan Asad. Signore e signori, che gol di Asad ma specialmente! Ciao Ronaldo, dove sei? Viaggi sui matte? Vai nello spazio questa notte, insieme a Giorginia, eh? Vai su Marte, Saturno, Venere, Uranio, Nettuno, Plutone, vuoi fare tutti questi viaggi su questi pianeti, eh? Hai visto che significa, non è detto che i campioni segnano sempre. Oggi non ti sei fatto per niente sentire, due punizioni, la prima giusta, la seconda barriera, barriera. Figlio mio, ritirati dalla Juve, ritirati, scappa via dalla Juve, non ti vogliamo, punto. Anche questa partita, deludente, deludente, i portoghesi, i portoghesi, i tifosi del Portogallo, proprio delusi dal tuo gioco, dal tuo gioco di ieri sera. E qui l'unica cosa è fare meglio che te ne vai, punto. Punto primo. Parlando di questa partita, allora i quartidi finale saranno Italia-Juventus. Sì, sì, molto, Italia-Juventus. O Italia-Juventus, tanti forlo stesso, no, stai. Bada alle chance, bada agli scherzi. Italia-Belgio, Italia-Belgio. E adesso voglio vedere l'Italia qui come gioca. Perché con l'Austria abbiamo sofferto le pene dell'inferno. Con l'Austria abbiamo sofferto le pene dell'inferno. Noi con l'Austria, ragazzi miei, abbiamo giocato talmente bene. Abbiamo giocato talmente maluccio. Non abbiamo chissà quando giocato bene quella partita. È stato in favore dell'Austria quella partita. E alla fine quel gol dell'Austria è stato anche meritato. Meritato il gol dell'Austria. Però adesso bisogna parlare di questa partita. Italia, poi, cosa dico, Belgio-Portogallo. Io ve l'ho detto questa alzada. Io ve l'ho detto il fratello di Eden Hazard che ti combina nel Dortmund. Io vi ho detto che Cristiano Ronaldo non si sta più facendo sentire. Portogallo-Francia. Portogallo-Francia, 2-2. Doppietto di Ronaldo assegnavano a due calci di rigore. Due calci di rigore. Non uno, due calci di rigore. Come la Juventus con l'Atalanta un anno fa con Sarghi. Anche oggi due calci di rigore. Non è la prima volta. Con il Real Madrid, Massimo Gettier, un calcio di rigore. Con la Juventus, mille calci di rigore. Ronaldo, ragazzi miei, è collato. Lo dovete sapere. Cari tifosi, cari fratelli bianconeri, Ronaldo è collato. Lo dovete sapere. Cristiano Ronaldo non è più quel Cristiano Ronaldo di quella rovesciata di tre anni fa allo stadium di Torino. Magari se si vede su Ronaldo così. Magari. Oggi c'è solo Goduria, appunto. Oggi c'è solo Goduria. Goduria che è Ronaldo uscito fuori. Perché da una parte è ok che bisogna essere sportivi. E bisogna dire ovviamente complimenti alle entrambe squadre che si sono affrontate. Con voi e grinta sì, ok. Ma soprattutto poi anche Ronaldo. Quel campione che si vuole mettere in mostra. Se gli piace stare accendere l'attenzione a Cristiano Ronaldo. Se sta accendere l'attenzione guadagna. Guadagna avvisi. Guadagna visualizzazioni. Guadagna visualizzazioni. Bonucci. Dice se sciacquatevi la bocca. E io dico sciacquatevi gli occhi, amici. Sciacquatevi gli occhi. Non pensate a Cristiano Ronaldo. Cosa serve Cristiano Ronaldo da guardarla? Cosa serve? Tra 500 follow scala su Instagram. Eh? Cosa serve? Pulite gli occhi. Non la bocca. Pulite. Pulite gli occhi. Pulite gli occhi. Non pensate a Ronaldo. Perché secondo voi Cristiano Ronaldo vi potrebbe mai pensare? Ma stiamo scherzando. Ma no dai. Ma no. Perché da una parte. Anche uno sportivo si deve anche in nervosia su certe cose. E però l'unica cosa che conta è il gioco di squadra. L'importante nelle competizioni è partecipare. Ma oggi tra Lukaku e Ronaldo non ha vinto nessuno secondo me. Non è che se ha perso Ronaldo ha vinto Lukaku. Se ha perso Lukaku ha vinto Ronaldo o no. Hanno perso entrambi tutti e due. Perché uno. Perché in questi tempi i giocatori hanno giocato pochissimo. Specialmente Ronaldo. Lukaku ha toccato qualche pallone anche Ronaldo. Però non hanno neanche... Non ho visto tirarli. A parte quella punizione di Ronaldo ma poi non li ho sentiti più. Quindi io ripeto che anche i campioni non si fanno neanche sentire. I campioni non è che si fanno sempre sentire. Non si fanno neanche sentire. In questa partita Lukaku e Ronaldo una coppia perfetta di attaccanti fugghi. Oggi non l'abbiamo vista. Da fino alla fine italiana e da fino alla fine bianconeo ci vediamo con un prossimo video. Italia-Belgio. Belgio-Lukaku ti aspettiamo. Ciao. Ronaldo arrivederci.